Grande felicità ieri perché ho ricevuto una lettera dalla mia amica Laura da Melbourne, una lettera che ha impiegato quattro mesi a raggiungermi, ma noi non ci lasciamo prendere dallo sconforto, mi sono subito messa a rispondere e siccome so che queste cose o le fai subito oppure passano di nuovo gli anni da aggiungersi ai mesi che impiega la lettera ad arrivare da Melbourne a Cagliari e viceversa, stamattina avevo già finito la mia lettera. Memori di quello che era successo l'ultima volta che avevo provato a spedire una lettera in Australia, forse ne avevo anche già parlato in uno dei miei tre minuti grezzi, nel senso che non sapevano bene quanto fosse la francatura, insomma era così complicato che mi ero comprata dei francobolli e mi ero portata a casa anche delle distinte doganali così da poter fare tutto a casa. Ora scrivo la mia bella lettera, felice e contenta, metto nella busta con tutte le cose caurucce che ho messo dentro e poi visto che a casa ho anche una bilancia di precisione, avevo le distinte doganali e avevo anche dei francobolli comprati in più, dico che faccio? Chiamo le poste italiane e chiedo quanto costa la francatura per una lettera di 160 grammi dall'Italia all'Australia. Chiamo il call center, sto in attesa e dopo una decina di minuti mi risponde la signora Ercilia che mi ascolta e dice ah quindi lei vuole spedire una raccomandata? No signora Ercilia io vorrei spedire una normalissima lettera, ho qua ai francobolli, conosco il peso, ho anche la distinta doganali, mi può dire a quanto corrispondono i francobolli che ormai nei francobolli non c'è più scritto il costo, il loro valore ma c'è una sigla, erano B3 mi pare, così che faccio il calcolo e vedo se devo andare all'ufficio postale a comprarne altri oppure se questi bastano. Eh ma noi queste cose non le sappiamo. Signora Ercilia io ho chiamato l'ufficio informazioni delle poste italiane selezionando la voce informazioni su spedizioni e lei non mi sa dire alla francatura no noi queste cose non le facciamo deve andare all'ufficio postale e io signora Ercilia ma l'ufficio postale è dista 20 chilometri da casa mia che naturalmente non è vero e lei queste cose non le facciamo ma signora Ercilia continuavo a ripetere il suo nome perché mi faceva ridere anche perché lei era abbastanza così non sapevo un po' come reagire. Eh signora Ercilia ma a lei eh ne converrà che è una cosa ridicola che un utente chiama l'ufficio postale per avere informazioni sulla spedizione e l'ufficio postale non ha questa informazione che è l'informazione base eh dare informazioni sulla francatura. No io non posso convenire di niente. Signora Ercilia ma io non la sto mica registrando ma lo può dire da essere umano mi dica che è una cosa ridicola. Io non posso dire niente se vuole mi può anche registrare. È lì che mi è dispiaciuto non aver iniziato la telefonata registrando perché l'avrei potuta usare per uno dei miei uno dei miei podcast. Comunque eh stanno fino ai tre minuti cosa ho fatto? Sono dovuta andare all'ufficio postale dove c'era una signora gentilissima i tre francobolli che avevo sono bastati e ho dovuto aggiungere solo un euro mi pare per un totale di dieci o undici euro ora non mi ricordo e niente la lettera è spedita speriamo che non impieghi quattro mesi ad arrivare.